Ben ritrovati con questo speciale estate del Tg di Confartigianato. Questa settimana parliamo della manovra economica. 25 miliardi di euro è l'entità complessiva degli interventi in cui prevalgono i tagli alla spesa pubblica. Arrivano novità per semplificare l'attività delle imprese e per favorire la loro aggregazione in rete. Per il sud zone a burocrazia zero e fiscalità di vantaggio. Il fisco colpirà le società in perenne perdita e il fenomeno delle imprese apri e chiudi. Giro di vite per i costi della politica, taglio netto ai trasferimenti a regioni e denti locali, stop agli aumenti per i dipendenti statali, stretta sulle pensioni. La manovra correttiva dei conti pubblici mantiene la promessa di ridurre le spese dello Stato, ma riserva anche notizie positive per gli imprenditori. Nel provvedimento da 25 miliardi, convertito in legge lo scorso 29 luglio, hanno visto la luce misure che Confartigianato sollecitava da tempo, come la segnalazione di inizio attività per facilitare l'apertura delle aziende e le norme che avviano un processo di semplificazione degli adempimenti amministrativi in rapporto alla dimensione e al settore di attività delle imprese. Minori complicazioni anche nel mezzogiorno, dove per favorire la nascita di iniziative produttive si prevede di istituire zone a burocrazia zero e a tassazione agevolata. Più libertà di fare impresa, quindi, ma anche spinta alla competitività attraverso l'aggregazione, grazie ad agevolazioni fiscali per i contratti di rete d'imprese. Per stimolare il rilancio dell'economia, la manovra prevede anche la proroga della detassazione e degli sgravi contributivi per la quota di salario correlata a incrementi di produttività, redditività ed efficienza organizzativa. Le novità della manovra continuano sul fronte del fisco, che metterà sotto osservazione i furbi. Come più volte chiesto da Confartigianato, le aziende perennemente in perdita saranno oggetto di controlli, mentre verifiche accurate riguarderanno anche le cosiddette imprese apri e chiudi, vale a dire quelle che chiudono i battenti prima di compiere un anno di vita. Un'ombra pesante rimane invece su una norma fortemente contestata da Confartigianato. Si tratta della ritenuta del 10% sui bonifici per ristrutturazioni edilizie e interventi di risparmio energetico, che colpisce pesantemente le imprese di costruzione. Una segnalazione di inizio attività sarà sufficiente per aprire un'azienda. I controlli dello Stato sulla regolarità dell'impresa arriveranno dopo. La novità si chiama SCIA, sigla che indica appunto la segnalazione certificata di inizio attività, prevista dalla manovra economica, per facilitare la vita di chi vuole mettersi in proprio. Ce ne parla Lorenza Manessi. Fare impresa, si sa, non è mai stato facile in Italia. La voglia di mettersi in proprio non manca, però tanti bei progetti si bloccano davanti alla barriera di pratiche burocratiche che scoraggiano gli aspiranti imprenditori. Ora le cose potrebbero cambiare. I principi della libertà di impresa contenuti nello Small Business Act entrano nella manovra economica con misure che segnano una svolta nei rapporti tra lo Stato e gli imprenditori. Le nuove norme fanno parte del pacchetto di provvedimenti che porta le firme del Ministro per la Semplificazione Roberto Calderoli e del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta. Aprire un'azienda sarà più semplice e rapido grazie alla segnalazione certificata di inizio attività che sostituisce la denuncia di inizio attività e spazza via le vecchie licenze, concessioni e autorizzazioni. Si tratta di una sorta di autocertificazione valida per le attività artigiane, commerciali e imprenditoriali. Una volta presentata all'ente pubblico, gli imprenditori potranno iniziare a lavorare senza dover attendere 30 giorni come accadeva finora. I controlli avverranno successivamente. La pubblica amministrazione avrà infatti 60 giorni di tempo dall'apertura dell'impresa per accertare che tutto è in regola. Per funzionare efficacemente, la segnalazione di inizio attività dovrà comunque integrarsi con altri strumenti come l'agenzia delle imprese, lo sportello unico per le attività produttive, la procedura telematica comunica. Se la segnalazione di inizio attività è un bel passo avanti, non basta per sconfiggere il mostro burocratico che agli imprenditori italiani costa oltre 16 miliardi di euro l'anno, punto di pil. E allora ecco un'altra novità in materia di semplificazione prevista dalla manovra. Il governo infatti è autorizzato ad adottare regolamenti di delegificazione, finalizzati a ridurre il peso della burocrazia sulle piccole imprese. Addirittura rivoluzionario il principio di proporzionalità che dovrà ispirare questa riforma. Gli adempimenti amministrativi infatti saranno calibrati a misura della dimensione di impresa e del settore di attività. Insomma, finalmente viene riconosciuto un concetto sacrosanto, tante volte invocato da confartigianato. Non si possono applicare gli stessi adempimenti e gli stessi costi burocratici ad una multinazionale e a un barbiere di un paesino di montagna. In arrivo vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari per le piccole imprese che si aggregano per realizzare innovazioni tecnologiche o di prodotto. La manovra correttiva riscrive in toto la disciplina dei contratti di rete tra imprese e introduce la detassazione, o meglio la sospensione dell'imposta per gli utili reinvestiti. Ivan de Menego. Piccolo è e resta bello, ma per misurarsi su mercati sempre più agguerriti la piccola dimensione aziendale spesso è un problema anziché un vantaggio. Soprattutto quando il prezzo per competere è rappresentato da costose innovazioni tecnologiche o di prodotto che richiedono investimenti e la collaborazione di università o istituti di ricerca. In questi casi essere piccolo è davvero un guaio. E allora che fare? Diventare grandi a tutti i costi, magari dopando l'impresa e comunque allontanandosi da quella formula che ha garantito il successo dell'economia italiana, che fa leva proprio sulle imprese con meno di 20 dipendenti? No, la strada non è questa, o almeno quella scelta dal governo a partire dal 2009 è un'altra. Una strada che trova puntuale conferma nella manovra economica, che rilancia e incentiva i contratti di rete. Uno strumento giuridico che consente alle piccole imprese di fare un salto di qualità pur restando piccole. Il contratto di rete, il cui sviluppo è stato promosso da Confartigianato, permette agli imprenditori di aggregarsi tra loro, conciliando l'obiettivo della crescita, con quello della tutela dell'individualità e della flessibilità, elementi alla base della filosofia della piccola impresa. Uno strumento a prova di piccoli e anche piccolissimi, agile e flessibile, in cui l'aggregazione si realizza non secondo le regole chiuse del Codice Civile, ma secondo i principi dell'autoregolamentazione, dunque un grande passo avanti rispetto ai vincoli imposti da consorsi, atti e distretti produttivi. Nel dettaglio, le imprese aderenti al contratto di rete potranno dedurre dal reddito d'impresa la quota degli utili destinata al Fondo Patrimoniale Comune o al patrimonio destinato all'affare, per realizzare entro l'anno successivo gli investimenti previsti dal programma di rete. A copertura della detassazione sono stati stanziati 48 milioni di euro, 20 per il 2011, 14 milioni annui per il 2012 e il 2013. Aspettative disattese, invece, per quanto riguarda la norma sulla compensazione dei debiti e dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. Le novità presenti nella manovra, infatti, sono distanti dalle reali esigenze delle imprese. I dettagli nel servizio di Fabrizio Cassieri. Buona nella teoria, meno nell'applicazione pratica. La norma contenuta nella manovra economica sulla compensazione dei debiti e dei crediti con la pubblica amministrazione ha disatteso le aspettative degli imprenditori del Paese. Troppi paletti, troppo rigidi criteri per la compensazione. La norma, in definitiva, è troppo lontana dalle reali esigenze della classe imprenditoriale. Se inizialmente Confartigianato aveva esultato per un'iniziativa che introduceva un principio fondamentale per gli imprenditori italiani, testo alla mano la norma appare come una vera e propria occasione mancata. La compensazione pensata dal governo, infatti, è limitata alle imprese che hanno un debito iscritto a ruolo e che, al tempo stesso, vantano un credito non superiore ai 1.500 euro con la pubblica amministrazione. Non con lo Stato, attenzione, ma soltanto con enti locali, regioni ed aziende sanitarie. Una gabbia tanto rigida da limitare la compensazione ad una fattispecie davvero limitata di imprenditori. C'è anche chi, considerando il limite a 1.500 euro, ritiene addirittura che la norma sia buona più per il libero cittadino che non per l'imprenditore. A queste difficoltà di fondo vanno aggiunte la mancanza di alcuni decreti su cui dovrà lavorare il Ministero dell'Economia e la questione legata alla certificazione dei pagamenti mai ricevuti dalla pubblica amministrazione. Un problema questo, particolarmente sentito nel nostro Paese. All'Italia, infatti, va il primato del maggior ritardo nel pagamento di beni e servizi. In media sono 186 giorni, più di sei mesi di tempo per liquidare una fattura. La media europea si ferma ad appena 63 giorni, poco più di due mesi. Con le forniture private la situazione migliora appena. In Italia ci vogliono 96 giorni, in Europa soltanto 55. Ma è la tendenza recente a preoccupare maggiormente artigiani e piccoli imprenditori. Tra il 2009 ed il 2010, infatti, i tempi di pagamento in Italia sono aumentati, mentre il resto dell'Europa sono diminuiti. La crisi, anche in questo caso, recita un ruolo importante. Il mancato pagamento delle commesse alle imprese, infatti, è un lusso che in tempi di scarsa liquidità economica non ci si può permettere. Oltre a questo, però, lo Stato italiano si è concesso un altro lusso, quello di aver mancato un'occasione importante per bloccare una tendenza nefasta per gli artigiani, quella di non pagare commesse e fatture delle micro e piccole imprese. Bene, è tutto. Ci vediamo lunedì 23 agosto, sempre alla stessa ora, sul sito di Confartigianato, per un altro speciale estate. E buone vacanze!